La porta si chiude, ma questa vittura è complessa di arrivare a Timburtina, via Timburtina la bicicletta ci esca, non c'è l'arancione ancora, qui portava Timburtina, Timburtina, fermata in premista, è fermata con la voce verde, prossima fermata, Tassoni. E qua la vittura 753, qui sta via, ok, siamo quasi a 40 termini, e questa è la fermata, vediamo, non si sente un suono da frenata, ma qua è di nuovo quella bomba in arancione che non ha la fermata, dovremmo rilevare una voce all'altro parlante. Poi saremo a, la prossima è, quindi potete controllare una fermata, già, che ci siamo, ci siamo quasi, da lì si cambia la capolina di nuovo, verde può passare, c'è scritto Atac Roma, c'è scritto Roma Atac di nuovo, la vittura 753, funziona ancora, è 62, un altro, ma il numero 62 non si appare, si è scomparso, perché non riprende un codice, il numero E, vedi, 32, un'impiade, 62, la sua fontina, 62, sembra nella 40, 40, la porta centrale è chiusa, porta centrale è chiusa, chiusa, lì c'è l'ottocento, lì si trova l'ottocento uno, Paola, ma è un po' rotto di nuovo, diverso come il 40, ma abbiamo appreso il 46 un'altra volta, che è l'anno scorso, l'anno scorso ho preso quello 46, ma non c'era quello vecchio, al termine corsa, non c'è scritto, c'è scritto Piazza Pia, due tanti amanciti, Paola, vediamo, vai, sì, perché non aveva tutti i migliori collegati, quindi, per me, ma qui non c'è, qua il miglior, Qui si trova una linea deviata, non senta bip o tutto l'uno, distanta, perché è limitata la via Tassoni e Tassi, il phone, e non si sente nulla. Lì si vede la freccia, la freccia indica che è l'uscita, passare libero, lì si vede la freccia. Bip, lo stesso prima come il 40, o 46, 916, proseguita la bus iberi. La chiesa nuova stiamo. Oh, si è scivolato, hai sentito? Pasma fermata. Pasma fermata. Pasma fermata. Corso Vittorio, Valore, Navona. Oh, sono i Gemelli, sono i Gemelli, il 64. Nooo, due. Fa la corsa. Prossima fermata. Corso Vittorio, Valore. Prossima fermata. Corso Vittorio, Valore. Argentina. Supremata. Sì, sì. Si, si. Perchè non mi dovremmo andare a sf definescione. Ecco Argentina. si chiude? sei fermato ancora? ecco quando sei ingrabito uno ha preso quello piccolo uno con l'altro con la grande eccolo siamo a via torre argentina via torre argentina l'accapo parte ecco lo nav si vede che lo ha dato l'otto navetta è in piazza Venezia, c'è scritto prossimo fermata Araceli, piazza Venezia ecco partito ecco il bus partito la cifra non ha nessun voto è in piazza Venezia un po' di più non è dietro lui ha fatto qualche cappone un cappone negativo non è 49 non è 49 io pure ho 49 anni ma io non posso venire camminare ancora a presto a pezzariare ma non è che cammina così parla in mare ecco qua c'è il supermercato Pam local oh oh ci vede che fuori servizio fuori servizio ancora encanto ci da encanto che l'hanno visto l'obus poi è stato via 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 Euro 460, Andersen 51 non si vede 87 Modello CNG 3.2 8.2 3.2 Pettico 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 Brum Brum partirà Per quanto 92 la ditta Metocipo Iniziamo a Corso C'è un posto lì Partito la porta Si apre e si chiude Pallina arancione Ma sta la pallina arancione La prossima fermata è di Piazza Veneto Prossimo fermata Corso Minetti Corso Minetti Ecco la macchina La prossima fermata Ecco Cosmi Minetti La prossima fermata è di Piazza Veneto 3, 2, 1, senti Bip Ferma prenotata Ferma prenotata Non dimenticherei Montour Store Si sente le monete Di Super Mario 5, non si vede più a Corso di Avertino C'è un po' 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 No Prossimo fermata Tridone Fontana di Petri Ecco si vede un altro 4,92 Direzione di metodo Cipro Ormai non prendiamo ancora 53 circolare tra due mani lodi stampeglia ecco la stampante non ci senti è sicuramente velocissima le fontane di trevi fermata penottata tencbock di scuba prossimo fermata tritone barberini si 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 ecco Pinocchio giocattoli non c'è più piatta c'è solo l'hawaiano piatta non c'è più c'è solo l'hawaiano ecco accadò piccolo ho visto sto scendendo al punto sto scendendo dal punto un nuovo mmm ma che bel latte espresso buono buono ma io ho portato a Susanna bello camis, muffetti, un orizzonte nuovo la piadineria e l'aggiornamento è paga qui con il tablet e mini con la natale, l'ho già visto prima anche quello dei piccoli non puoi sentirlo ecco, l'attura 753 è partito l'argo Santa Susanna l'ho già sentito? ecco la Alfa Romeo, Giulietta c'è rotta, che aveva mangiato prossima fermata c'è Naya l'ottuna c'è Naya un'altra volta mi sembra che non si è rinascita ma è in scopo ma è in scopo mi sembra che stava gatherata ma è in scopo la finale ma è in scopo ma è in scopo confermando per la data di 8.5 ecco di travertine con 64 luce elettrico stazione San Pietro, questo è nuova ecco il 64, stazione San Pietro ecco c'era un aria, un luogo ecco ecco la spuntina, la rimiava una mentana qui c'è il passaggio completo questa è la giustiniana, fermata suonare l'iphone? ecco, cernaglia cernaglia poi, ecco, cernaglia poi, ecco, cernaglia poi, ecco, cernaglia prossimo fermata, Botturno Botturno, un po' un singolo la fermata è? Botturno Botturno, fino a Costa Maglia quella vecchia passa ancora? perché? va prof va buon prego verde prossimo fermata, indipendenza 75 ecco il 75 ecco la vecchia ecco la vecchia eh 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 75 ecco il po' il romaino e là è po' il romaino o il 44 molto, molto al cine una cosa in giornalum ecco il 75 ecco la vecchia ecco 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 rosso ancora verde rosso ancora verde San Martino della Battaglia Castro Metària Aperto Policinico Chiuso San Martino della Battaglia 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 prossimo fermata Cruce Rossa Cruce Rossa a Nomentana Lato Sisto La Pizzeria la Pizzeria vecchia pomodoro Lago Don Orione dimenticata ancora La Odon Orione Sento bip Verdi Quindi ho un'altra pilotata in nuova Si assisto un'altra volta Ma è assistito a 490 Ma se vedo 490 è meglio O 492 Ma è diverso Ma è troppo diverso 490, non c'è messo Ah, 62 Prossima fermata, porta a pie L'abbiamo quasi vicino Ancora, ma siamo quasi vicini Bresanone a Claudio Porta Pia Ecco, siamo quasi a Porta Pia Ecco il bus Eletrico, Termini Porta Pia Un'altra volta All'autocuba Prossima rimanda Un'altra volta Ecco il bip Oh, pallina rossa Ancora Ditemi Per tenere Levate Ma su Ma che rinno Prendere bus ibrido Prossima fermata Nomentana Regina Margherita Prossima fermata 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 ma velocissima, il bus va veloce, qui è 60, tre passa, posso ancora, proviamo, è partito con la macchinina, con le macchininezze, parti, rimbalza, prossimo fermata, Noventana, Trieste, sì, Noventana, Trieste e l'89, quindi la corsa è più leggera, quindi, siamo fermati ancora, e questo è la Santa Maria di Noventana, Corso Trieste, eccolo, 66 termini, Noventana, Trieste, sembra un elefante, quello scrivole della porta, a Weir, uno slum, prossimo fermata, Torlonia, Noventana, il 90 Esprit, solo è, solo è un urbino, non si vede niente, a Pietro Raspi, L'Angulabia, sono le Dicciumi, ecco, 60, Piazza Venezia, a Macchia Torlonia, a Lorenzo San Magnifico, ma ancora? perché? non li vedete, non li vedete, non li vedete, Ncuts in Argonabia, Torlonia, Noventana. Questa è la casa di sviluppo. Lì funziona una parete tipo un tatto una pelle di un bus morbido, l'odore di bus ibrido sente un gas, una benzina, lì prende una presa di ricarica del bus elettrico, c'è un circuito elettronico L'odore sta per chiudere le finestre, mezzodotte ancora, e questa è la scuola Mater, una bambolina, rosso. Non si vede, il semafero, luce verde, un po' rotta. Comunatamente questo bus, ecco il giardino, un parco. L'ha costruito un parco, nella linea c'è una fiera diciamo. E' alla fine della fine corsa, un po'. 30 minuti, da una corsa a 30 minuti, ti visto? Sento bip un'altra volta. Eccolo biese, allora piccola. Ah, non fermare. Prossimo fermata, Ravenna, piazza. Ravenna, piazza, pia. Non si dice. Pochettone, di Pokémon, film. Lago Ravenna. Ecco, lavenna. Piazza. Questo è un piazza? No. Ravenna. Allora, Lorenzo Manz II, Magnifico. Questa è... Prossima fermata, Lorenzo I, Magnifico, Stamina. Lorenzo II, Magnifico. La fermata Bologna. A... A Lega Lombarda. Alla via delle Prolinci. La piazza Bologna. Fa tutto il giro. Oh, ecco. Lì passa ancora il 62. Ancora il 62. Mi piace molto il bussibilo. Allora, per una settimana faremo il 44. Montalcini. Ehehehe, bellissimo. Sento. Ma poi, per un di tutto, che il bussibilo si dà per... ...dare... ...a... ...reposito. Lorenzo I, Magnifico, Stamina. Ecco. Ecco, Rect and Credi. Non profisso le licenze. No, non credi. Suona. Prossima fermata, Lorenzo I, Magnifico, gira Proc. Lorenzo I, Magnifico, non è il secondo, ma è Lorenzo I, Magnifico. Ah, è il Magnifico. La via di Lolo. Sembra la L. Cicc. Contessa di Bertinorio. Ecco, Jimmy, Jimmy, Bonpan, era Bonpan. La gastronomia, cioè, non conto la gastronomia. Lorenzo I, Magnifico, gira Procida. Ecco, ventunesimo aprile, Villa Ricotti MB. Il suono è questa, la palestra di Baleina. L'estetica, ancora la baleina. Sottima fermata è Tiburtina. Vediamo. Prossima fermata, stazione Tiburtina MB. Bene, alla fine corsa. Fine corsa, ok. Bene, sento la bicicletta. Bicicletta, sono notifiche. Il suono è di Bertina. Ancora. Ancora. L'ho un mito. Ma c'è scritto ancora, fermata. Un'altra volta. Ecco, barbershop. Tutte le direzioni, ecco. Un altro Bip. E... Beh... All'intera del Buscidilo ci sono altri posti. Sono 42 posti. bella corsa situazione divertita la prossima primata lì, vinci avete visto come è fatto una bella corsa la corsa è stata bene, è stata bellissima quella corsa ma abbiamo finito bus è rimasto 495 ah, 492 scusa non è rimasti altri e 490 c'è scritto si, dichiaro la corsa 519 ecco la 3 anni e abbiamo finito il 62 è finito è tutto finito grazie bus ibido arrivederci buon anno grazie a tutti